Il Castor One è l'ammiraglia della flotta dell'armatore internazionale Saipem S.P.A. ed oggi uno delle più efficienti navi posatubi nel settore offshore, grazie al suo alto livello di velocità e di produzione e alla sua capacità di posare tubi in acque poco profonde o ultra profonde. Il porto di Trapani e la società Riccardo Sanges e C. in continuità con il passato, stanno partecipando alla realizzazione da parte di Saipem e del suo contraente Enimed S.P.A. dell'importantissimo progetto offshore denominato Cassiopea. Il progetto offshore Cassiopea riguarda l'estrazione di gas dai campi offshore a largo delle coste siciliane con uno sviluppo interamente sottomarino senza emissioni e privo di impatto visivo a mare. Il gas estratto verrà inviato a un nuovo impianto di trattamento posto all'interno dell'area della raffineria di Gela tramite una linea sottomarina di 60 km di lunghezza. Per la sua realizzazione, Eni ha siglato un contratto con Saipem per l'utilizzo delle sue navi Castor One, Castoro 10 e Saipem 3000. Tale progetto è stato accolto in maniera entusiastica presso i più alti livelli delle istituzioni europee e viene descritto dal governo italiano come uno dei più importanti investimenti di sempre nel settore gas e oil, per il quale è previsto un investimento di circa un miliardo di euro. Sull'approdo del Castor One nel porto di Trapano interviene la dottoressa Phillips Adamo, responsabile dell'ufficio agenzia marittima della stessa Riccardo Sanchos. Cassiopeia è un progetto importantissimo che vede la parte construction di 60 km di metano d'otto e la parte drilling, perforazione di nuovi pozzi. Questo è un progetto che rappresenta una crescita per il nostro porto poiché grazie all'esperienza della portualità della nostra azienda per precedenti progetti che sono stati realizzati per l'offshore sotto la guida del nostro attuale presidente Vito Panfalone. La Saipem sceglie Trapani come base operativa, proprio per questo progetto per cui si nutrono tante speranze per il nostro futuro. Tutto ciò è reso possibile anche grazie all'efficienza e alla preparazione delle nostre autorità, autorità di sistema portuale, autorità marittima, la polizia di frontiera, la dogana e anche ai servizi tecnonautici. Questo è un momento di crescita per il porto di Trapani che potrebbe rappresentare un punto di riferimento per i futuri progetti offshore. Le affermazioni della dottoressa Adamo sono condivise dal giovane manager della Riccardo Sanchos e Amp, l'ingegner Vito Panfalone. La Saipem ha scelto Trapani in vista di quelle che sono state le collaborazioni precedenti e quindi non è un caso, non è una questione di prossimità ma siamo stati scelti nel territorio siciliano in vista di quelle che sono le nostre attrezzature, la nostra esperienza e la nostra forza e competenza su qualcosa che abbiamo già fatto. Ovviamente è un'opportunità da tanti punti di vista di collaborare con aziende di questo calibro che ci sta permettendo comunque di fare degli investimenti in termini di attrezzatura, di macchinari e anche di personale. Il castorone che qui adesso suggella il tutto e ci mette nelle condizioni di far valere quello che è stato il lavoro precedente con delle connessioni tecniche non indifferenti. Ovviamente siamo fiduciosi che tutto andrà per il meglio e che si continuerà a lavorare come stiamo già facendo nel massimo nell'efficienza e nell'efficacia.